A gennaio è già nell'aria, il freddo, l'umido, il vento, il giorno si fa breve e il tramonto dura un attimo, un momento per prender fiato, per prepararsi, aspetti e aspetti ancora che il primo segno appaia, è come casa, questa è la tua casa, casa dei momenti felici e dei momenti più tristi, ma è tua e ogni anno ci torni ancora e ancora, dal 1883 il rugby è una luce nell'inverno, è un Nations, poi la Francia e nel 2000 il sole dell'Italia, ogni inverno sediamo, sperando che la nostra squadra vada bene, che torni alla vittoria, speranza che diventa realtà o speranza che uccide, a febbraio il rugby ritorna, gli inverni sono meno rigidi, addio gennaio, ciao febbraio, ciao il messo in azione, e tu come lo vivrai?